Oggi giornata in famiglia. Nonna Michelle può coccolare il piccolo Cesare. Cosa fai? E ogni volta che lo guardo mi andai a piangere. Perché mi assomiglia. Sì, perché ti assomiglia, perché... cioè, è pazzesco, dai. La vita è pazzesca. Wow, qua stiamo parlando di roba seria. Fammi vedere la situazione per gli amanti del genere. Stiamo facendo solo polentine. Ah, ma una sola ne hai messa? Sì, vai, vai. Ancora c'è gente che ti insomma, eh? È mezzogiorno e mezza. Bravo Goffo! Oh, I'll feed all you fuckers. Molto bene. Io sono il... il sous-chef. Anche un po' triste. Oh no! Si la tagliate, Sara. Probabile. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale. Ciao! Ciao! Ciao!